Benvenuti in The Grisogono The Grisogono è un marchio di orologi di lusso fondato nel 1993 dal designer di gioielli Fawaz Gruosi, a Ginevra, in Svizzera. Il marchio si è guadagnato un posto di rilievo nel settore dell'alta orologeria, grazie alla sua capacità di combinare l'artigianato tradizionale svizzero con un'estetica moderna e glamour. I modelli di orologi The Grisogono spaziano dal classico al contemporaneo, con una forte attenzione ai dettagli e all'eleganza. Molti degli orologi sono dotati di funzionalità aggiuntive, come la visualizzazione delle fasi lunari, il doppio fuso orario e il cronografo. Inoltre, il marchio utilizza materiali di alta qualità, come l'oro bianco e rosa, l'acciaio inossidabile e i diamanti, per creare orologi di lusso davvero unici. Tra i modelli più iconici di The Grisogono ci sono, lo «instrumento numero uno», caratterizzato da un design rettangolare e un grande quadrante, e il «allegra», un orologio femminile caratterizzato da una fascia di diamanti intorno al quadrante e una varietà di colori brillanti. Inoltre, il marchio offre una vasta gamma di orologi da uomo e da donna, con varie opzioni di cinturino e quadrante. Il design audace e innovativo di The Grisogono lo rende un marchio molto apprezzato tra gli appassionati di orologi di lusso. Inoltre, la qualità dei materiali e l'attenzione ai dettagli garantiscono che gli orologi siano non solo esteticamente belli, ma anche funzionali e durevoli nel tempo. Con la sua combinazione di artigianato tradizionale svizzero e design innovativo, questo marchio di orologi continua ad essere uno dei più apprezzati del settore dell'alta orologeria. In conclusione, The Grisogono è un marchio di orologi di lusso che si distingue per il suo stile audace e innovativo, la qualità dei materiali e l'attenzione ai dettagli. Esplora la vasta gamma di modelli disponibili e trova l'orologio perfetto per il tuo stile e le tue esigenze.